ciao ragazzi un saluto a tutto il gruppo di caravana autonoma e libera ho appena finito di montare di collegare i tubi al serbatoio come vi avevo promesso nel video precedente ho cercato di fare al meglio il lavoro vedete ci sono anche le clip che sorreggono i tubi e niente ho fatto il primo test ho caricato l'acqua ho aperto i rubinetti per il momento sembra che tutto a posto continuerò con i test prima di andare in giro però allora i tubi sono sono belli fermi il serbatoio è bello stretto bullonato con tutto il doppio bullone doppio dato questi bulloncini che autobloccanti quindi sa bello serato al alla roulotte niente faremo continuerò con i test farò riempire tutto il circuito per vedere se c'è qualche perdita però già ho provato per ora sembra tutto a posto ok ragazzi questo farò un altro video e poi basta perché ho montato il serbatoio ho fatto tutto il lavoro che devo fare ho montato i dubbi adesso il serbatoio è bello fermo i dubbi anche quindi montaggio effettuato con successo ok ragazzi per i prossimi video rimanete sintonizzati perché ci saranno delle novità iscrivetevi al canale seguite il gruppo facebook e instagram che ne vedrete delle belle ciao ragazzi un abbraccio a tutti al prossimo video ciao